Musica AgriSapori di oggi inizia col farvi venire l'acquolina in bocca. Fabrizio Salcia ha raggiunto diverse località del nord Italia, ma non solo. Ha seguito uno chef piemontese oltre manica, tutto per raccontarci dei golosi viaggi dell'invitato speciale. In questa puntata di AgriSapori ritorna l'invitato speciale con i suoi viaggi tra una cucina e l'altra. La prima tappa è un piacevole ricordo estivo in Malga, a quota 1504 metri, a pochi chilometri dal centro di Valdobiadene, in provincia di Treviso. Qui ho trovato piatti semplici e genuini, preparati nel rispetto delle tradizioni locali. Al mio arrivo gli amici della Malga erano intenti a cucinare la polenta, che poi mi venne servita con dello spezzatino, saporito, caldo e fumante. Ma sapete bene quanto io sia goloso e di certo non mi limitai ad un piatto. Ecco un bel pezzo di formaggio di Malga, sempre accompagnato dalla nostra polenta. Ma prima ancora di questi due piatti, ebbi il piacere di gustare dei deliziosi quanto saporiti canederli, serviti con il burro fuso di montagna, dei prelibati gnocchi, anche questi impreziositi dal formaggio di altura, e poi ancora la polenta, ma questa volta con i funghi e un altro particolare formaggio, sempre di Malga, cucinato a parte in padella. Dalla Malga al mare, anzi al delta del Po Veneto, perché tempo fa raggiunsi la spiaggia di Scano Boa, che si trova nel comune di Porto Tolle e costituisce lo scanno storico del delta del Po. Ci andai, perché qui le vongole sono davvero un qualcosa di unico. Lasciate le vongole il delta, fu in provincia di Verona, all'interno di un'altra cucina, che mi deliziai nel vedere prima e nell'assaggiare dopo i bigoli artigianali serviti con le acciughe. Ma anche in questa cucina caddi nel vizio della golosità e allora, dopo i bigoli, anche qui degli gnocchi semplicemente scolati e serviti con del sugo di pomodoro. E poi ancora lei, per certi versi la regina della cucina veneta, la polenta. E in un'altra pentola il celebre baccalà, da servire poi nello stesso piatto per la gioia dei gourmet più pretenziosi. Ma sapete bene che la polenta ha tanti compagni di viaggio e allora eccola qui con del buon salame artigianale. Per dare un tocco di leggerezza alla mia vista in cucina, ecco un piatto meno impegnativo ma altrettanto buono. Delle semplici uova sode servite con degli asparagi bianchi, tipici di questo territorio. Fu invece in provincia di Vicenza, a Breganze, che trovai sollievo per il mio parato con il torresano. Si tratta di un giovane piccione che non ha ancora spiccato il volo, farcito e cotto sullo spiedo. Qui un piatto della tradizione e preparato a dovere è davvero ottimo. Cambiamo cucina, perché in un celebre ristorante di Treviso, durante uno dei miei tanti viaggi di lavoro, assaporai con piacere dei tortelli ripieni di carciofi, serviti con una crema di panna era barbaro e dei gamberi di Porto Santo Spirito. Subito dopo una battuta di pezzata rossa, condita con olio, limone salato e pepe, servita poi nel piatto con una crema di melanzane e del pesto di rucola. Faccio una pausa, per modo di dire, mentre vi lascio gustare le immagini di questi tortelli e dei medaglioni di coniglio, altre due ricette sfiziosissime e buonissime. Nel frattempo ho ancora viaggiato e sono entrato in un'altra cucina dove, quando ci arrivai, stavano pulendo un meraviglioso pesce spada. Un lavoro fatto con cura e attenzione da mani decisamente esperte. E poi ecco la preparazione del piatto finale. Il nostro pesce spada in compagnia di una saporitissima caponatina. Dalla storia passata a quella più recente. Nel mese di settembre, infatti, sulla terrazza del prestigioso Hotel Danieli di Venezia, la Schenck Italian Wineries ha presentato il nuovo bacio della luna, collezione anniversario Valdobbiadine millesimato 2020. La filosofia che ha guidato verso questo importante traguardo la cantina è un vero mix tra innovazione, ricerca e investimenti mirati al miglioramento continuo. La festa ha avuto inizio con una passeggiata in piazza San Marco, seguita poi dal suntuoso aperitivo e dalla cena di gala. Tra i piatti la fregola mantecata, i pesci della laguna, garusoli alla crema di prezzemolo e finocchi di mare, l'astice alla mediterranea e la sfogliatina ai frutti di bosco con semifreddo alla panna acida. Da Venezia a Londra, perché solo qualche settimana fa, lo chef piemontese Fulvio Siccardi, nella capitale inglese al 280 di Kensington High Street, per una serata promozionale dei sapori e del territorio delle langhe, ha preparato degli sfiziosi finger food, tutti rigorosamente realizzati, con prodotti della regione Sabauda e con qualche eccezione sempre squisitamente italiana. E allora la classica battuta al coltello, preparata con maestria. La salsiccia, quella più che buona, condita e servita con la granella di nocciola, il cotechino con le lenticchie, la foglia di cavolo ripiena, il peperone con la bagna cauda, il tartufo nero, il risotto mantecato con il castelmagno, raffreddato, tagliato a quadretti, passato nella semole fritto. Una vera delizia per i golosi. In poche parole, come incantare Londra con i sapori delle nostre terre. E a questo punto del mio intervento qui in Agri Sapori, vi andrebbe qualcosa di dolce, ottimale per il momento? Allora seguitemi, perché grazie al pasticcere Giancarlo Torta vi presento la lavorazione del marron glacé artigianale, come si facevano un tempo. Occorrono delle castagne di altissima qualità, bisogna pelarle delle due pelli e questo è un lavoro impegnativo ma importante. Si mettono poi dentro dei sacchetti di tulle, cinque per ogni involucro, in modo che tutte abbiano il lato libero nel momento di presa della canditura. Le si posizionano nel pentolone e le si fanno bollire per circa quattro ore. Nel frattempo prepariamo la canditura con glucosio, zucchero e un pochino d'acqua e la bacca di vaniglia per dare profumo. Al termine della bollitura scoliamo le nostre castagne e poi le mettiamo a riposare con il preparato della canditura, lo sciroppo. Ci dovranno restare per sei, sette giorni e tutti i giorni si fa scaldare il tutto a 85 gradi, ma mai bollire in modo che il marrone non diventi troppo duro. Al termine della canditura i marroni si mettono a scolare, si allargano su di una griglia e si provvede a passargli sopra una glassa leggera che viene preparata con lo sciroppo della canditura e dello zucchero a velo. Se risultasse troppo spessa, si può aggiungere dell'acqua. Si possono poi conservare integri con il loro superbo sapore anche una settimana. Per questa puntata vi lascio, ma vi aspetto per le prossime, sempre tra una cucina e l'altra. Un evento, un appuntamento gourmet, ma sempre qui, su Agrisapori. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Begua, un'area naturale protetta della Liguria, in un territorio che si estende tra la città metropolitana di Genova e la provincia di Savona e comprende il Monte Begua. In questo areale, tre ragazzi visceralmente legati al proprio territorio hanno creato la loro impresa agricola di elicicoltura. Le loro chiocciole stanno popolando i 60 recinti sugli oltre 3 ettari di terreno dell'azienda nello splendido e incontaminato contesto di Maddalena, frazione di Sassello. Bandite è la località dove si trova l'allevamento ed il nome col quale hanno battezzato le loro chiocciole, che si nascondono ovunque. L'allevamento è a ciclo naturale completo, all'aperto, con alimentazione esclusivamente vegetale, nel rispetto della natura e dei suoi tempi. Regione Liguria, provincia di Savona, Ponente, a pochi chilometri dal confine con la Regione Piemonte, il comune è quello di Sassello, la frazione è Maddalena. Torniamo ad occuparci, a parlare, ad incontrare il comparto dell'elicicoltura. Sono con Fabio Damonte che, con altri due amici, altri due giovani, qualche anno fa, nel 2016, hanno avuto un'idea brillante e hanno deciso di trovare un grande appezzamento. Ma andiamo con ordine. Intanto, dove ci troviamo, per esattezza? Io ho detto Maddalena, giusto? Sì, giusto. Frazione di Maddalena, comune di Sassello e siamo una località bandite. Ecco, un comune famoso anche per un altro prodotto di cui in passato vi abbiamo già parlato. Beh, qui abbiamo più di un ettaro e mezzo di appezzamento. Precisamente un attraverso atto, un attraverso atto, all'incirca di allevamento. Io ho detto tre giovani. Che cosa vi siete detti? Come è nata l'idea? L'idea è nata da una forte passione per il mondo agricolo e il forte desiderio di poterci vivere. Diciamo che inizialmente pensavamo a un allevamento di capre o pecore, però i costi per iniziare erano molto più elevati rispetto a un costo di... Tipo questo, certo. Tipo questo qua. e quindi ci siamo buttati a capofitto su quest'idea. Abbiamo fatto dei corsi di formazione a Cerasco e siamo poi partiti piano piano. Inizialmente lavoravamo entrambi e quindi diciamo che abbiamo creato l'allevamento e messo su tutto quanto mettendoci del tempo, ecco. Passo dopo passo. Passo dopo passo. Poi successivamente ci siamo licenziati entrambi e siamo venuti a lavorare a tempo pieno. Quindi siamo qua tutti i giorni praticamente. E arrivate dalla costa voi però. arriviamo da Renzano e questo è stato necessario per il tipo di terreno che cercavamo adatto alle licicolture. È un terreno comunque pianeggiante lineare e quindi terreni che purtroppo sulla costa Ligure difficilmente si trovano se non in qualche piccola zona può essere albenga o... Sì, a parte la piana di albenga poi... Difficilmente si possono trovare terreni adatti a questo tipo di coltura. Che tra l'altro è un terreno idoneo perché lo avete fatto studiare, lo avete fatto analizzare. Abbiamo fatto delle piccole anali, sì. Piccoli campionamenti di terreno inizialmente prima di acquistarlo e ci siamo resi conto che era un terreno adatto sia come struttura proprio della terra in sé e quindi niente, siamo partiti poi... Hai citato carasco, metodo chiocciola carasco che è un metodo insomma che sta avendo un grande successo non soltanto in Italia. Che tipologia di chiocciola alleviamo? Alleviamo l'elix asperza maxima che è un tipo di lumaca che in Liguria non è proprio comune nel senso che la lumaca tipica Ligure è un pochettino più piccola rispetto alla nostra. Siamo stati tra virgolette costretti per il tipo di clima che abbiamo qua. Comunque ci sono climi che durante l'inverno si arriva anche a meno 20 temperature che raggiungono anche i meno 20 e quindi abbiamo dovuto scegliere un tipo di lumaca un po' più resistente al freddo e siamo appunto abbiamo deciso per la maxima che è un... Penso che vi abbiano supportato anche dall'Istituto di Elicicoltura di Cherasco. Certo, certo. Poi parliamo di altre tematiche. Prima ancora vedo una trentina di impianti forse di più è qualcuno che sta per essere ultimato perciò siete al buono per avere tutto il terreno. Sì, diciamo che per andare a regime totalmente mancano anche un pochino di tempo ma con calma e con pazienza ci arriveremo. E lavoro. Siete bravi. No, no, no. Quando i giovani hanno voglia di fare e fanno certi passi nella vita bisogna veramente chapeau togliersi il cappello. Fabio, cosa abbiamo nei recinti e cosa diamo come alimentazione al di fuori di quello che coltiviamo nei recinti stessi? All'interno dei recinti noi seminiamo bietro, cavolo e radicchio e all'esterno invece poi soperiamo con altra roba seminata all'esterno e coltiviamo un po' di tutto nel senso che possiamo abbiamo messo zucche quest'anno erba medica cavoli anche all'esterno bietro anche all'esterno cioè oltre a essere all'interno dei recinti poi bietro e cavoli le seminiamo anche esternamente per dargli poi da mangiare dopo e poi cioè qualsiasi tipo di ortaggio di frutta sì no la lumanca predilige l'ortaggio ma la frutta la mangia anche ma il problema è che crea poi marciscienza all'interno dei recinti perché fermentando con gli zuccheri crea poi dei problemi successivi e sappiamo come il recinto è fuori il recinto più è pulito più è tutto in ordine è meglio per essere animale certo e meno ne perdiamo parliamo adesso del ciclo produttivo perché mi pare che siate riusciti a fare in modo che non abbiamo i blocchi stagionali cioè non è che tutto quanto in quel periodo è raccolto ma lo abbiamo suddiviso siamo riusciti sì a distribuire un pochettino lavoro su tutto l'arco dell'anno partendo questo grazie alla partenza alternata dei recinti di riproduzione ovvero siamo partiti con alcuni recinti di riproduzione nel periodo primaverile e invece con altri partiamo nel periodo autunnale questo ci permette di avere delle nascite prolungate nel tempo su vari recinti e quindi appunto non avere poi il periodo di raccolta tutto concentrato nello stesso momento ma distribuito su una parte più lunga abbiamo i recinti per la riproduzione quelli per l'ingrasso il pascolo perché anche la lumaca ricordate che anche la chiocciola pascola è un termine corretto non stiamo dicendo nulla di sbagliato invece senti Fabio il prodotto poi che viene raccolto dove va a finire? il prodotto diciamo che il nostro scopo principale è quello di riuscire a vendere a privati ai ristoranti riuscendo a mantenere un prezzo di vendita leggermente più alto abbiamo però una garanzia dal consorzio che ci permette il ritiro merce e tutto quello che è invenduto che non siamo riusciti a vendere a privati e il consorzio di Cerasco ci dà la possibilità di vendere poi loro hanno le loro lavorazioni io ho visitato più volte il centro un centro molto importante molto bello dove fanno anche dei preparati delle vere e proprie ricette a proposito sappiate che con le chiocciole potete veramente sbizzarrirvi in cucina perché le possiamo mangiare in mille modi un cibo ricco di proteine un povero di grassi oltretutto è una carne molto importante è una carne sì anche una carne per il futuro che diciamo che un'ecosostenibilità anche degli allevamenti e di tutto quello che possono essere le grosse richieste di alimentazione che c'è al giorno d'oggi piccolo particolare la chiocciola è mafrodita esatto non c'è maschio e femmine ma devono sempre essere in due esatto possono utilizzare entrambi gli apparati riproduttori ma ne utilizzano sempre uno per volta quindi l'autofecondazione non è possibile all'interno delle lumache hai visto mi pare che abbiate dei progetti in futuro cioè vi piacerebbe acquistare il macchinario per l'estrazione della bava il nostro scopo finale diciamo un po' quello perché è un mercato molto vivo e che permette anche un reddito più alto rispetto alla sola vendita gastronomica e il vantaggio grossissimo che porta è che la stessa lumaca da cui viene estratta la bava è anche una lumaca che poi può essere messa sul mercato gastronomico la possiamo diciamo utilizzare tre volte per il ciclo che mi pare sia una macchina che funzioni con l'azoto non vorrei sbagliare vero? c'è un primo ciclo di disinfezione delle chioccere e successivamente viene poi iniettato all'interno di queste ampolle dove stanno 10 kg di lumache viene iniettata una soluzione stimolante e quindi piacevole per l'animale che permette di cioè fa sì che la lumaca produca una bava è stata anche studiata la bava diciamo prodotta estratta da una lumaca che prova piacere è una bava più qualitativa rispetto a come veniva estratta un tempo qualcuno l'ha definita un po' la spa delle chioccele con la macchina esatto tra l'altro la bava è molto importante beh si usa molto in cosmetica ma è un anti-invecchiamento straordinario ricordo anche degli studi fatti da dei giovani in Puglia per ricoprire eventualmente le insalate le verdure di quarta gamma per far sì che non vadano a deteriorarsi no ci sono degli studi interessanti ma è di sicuro la bava è un prodotto ottimo è in cosmetica viene usato tantissimo creme dopo barbe anche in farmaceutica anche in farmaceutica ci sono anche un sacco di sciroppi per la tosse che sono a base di bava di Umac Fabio mi vuoi ricordare il nome dei tuoi colleghi i tuoi giovani amici Giorgio Vallarino e Fabio Quartino e noi vi facciamo tanti complimenti continuate perché avete una grande iniziativa una grande idea lavorate molto perché la terra è sempre molto bassa perché la parola è facile è vero va bene dalla Liguria è tutto la linea può tornare alla regia Siamo al Salone del Gusto di Torino questa grande kermesse mondiale che ci invita anche a raccontare i nuovi messaggi dell'enogastronomia quasi in tutta Italia si sta aprendo è aperta la cerca del tartufo bianco pregiato noi oggi abbiamo voluto raccontare proprio la previsione l'andamento della stagione tartufigina anche tra mille difficoltà del cambiamento climatico e della siccità estiva quella preziosa pepita ha voglia di emergere e di nascere anche perché il micelio può stare in incubazione per mesi le piogge naturalmente importanti magari dilateranno a novembre dicembre gennaio la presenza della preziosa pepita di tartufo bianco per cui anche quest'anno sarà una bella annata anche quest'anno la ristorazione italiana potrà accogliere turisti internazionali che amano il tartufo ci sono delle città del tartufo che stanno in qualche modo aprendo i battenti chiaramente i cambiamenti climatici quello che non avviene per mesi avviene magari in un giorno o in poche ore e devasta tutto questo è un po' un problema anche del tartufo tutto l'apparato di micorizzazione è molto sensibile sia alle piogge sia ai cambiamenti climatici ma soprattutto alla siccità la siccità non ha depositato favorevolmente alla nascita del tartufo eppure questo tartufo questo micelio può stare in incubazione anche per mesi ed anni e magari poi trova quelle condizioni migliori come le piogge magari agostane perché lui il tartufo ha una missione quello di vedere la luce di proporre questa pepita di nascere di rendere questo carpoforo una pepita un diamante un qualcosa di meraviglioso che solo il cavatore e il cagnolino riescono in qualche modo a portare a portare alla luce diciamo che il tartufo ha comunque un alone in tutta Italia magari dovremo aspettare fine ottobre primi di novembre però io sono convinto che fino a natale e anche a gennaio il tartufo bianco darà il meglio di sé io credo che in questo momento chiamerei qui con me Caterina proprio arriva con grande stile ecco Caterina io ho parlato del tartufo delle pepite che si uniranno alla pasta del tuo pastificio intanto diciamo da dove viene dove è ubicato il pastificio il pastificio è ubicato a Borgopace che è un piccolo paesino nell'entroterra delle Marche della provincia di Pesaro Urbino siamo proprio al confine con la Toscana e l'Umbria nel nostro territorio poi nasce il fiume più lungo delle Marche il Metauro e dalle sorgenti delle acque pure delle sorgenti di questo fiume noi ecco sono è l'ingrediente principale oltre che al grano sempre dei nostri agricoltori locali sono i due ingredienti che fanno della mia pasta diciamo una pasta di alta qualità ecco proprio per i suoi ingredienti che sono di alta qualità la nostra anche della mia famiglia e di mio marito è proprio una passione verso il nostro territorio verso i prodotti e anche proprio la nostra terra proprio come terra noi amiamo molto la farina i farinati siamo lavoratori di panificati di pane pizza e quindi ecco mancava solo la terza P mancava la pasta e quindi abbiamo voluto diciamo ampliare la nostra passione anche nell'essiccazione e quindi nel pastificare proprio pasta secca peraltro nella sua famiglia si va a cercare anche il tartufo quindi da Caterina la cucina è a millimetro zero e possiamo dire dai grazie allora vado a cucinare questa è una pepita di uncinatum nata in un terreno sicuramente un po' granuloso un po' arenaceo un pochino non certamente sabbioso vedete la forma è abbastanza omogenea ed è comunque di una bella dimensione poi ovviamente andiamo a sentire i profumi emerge subito una nota di muschio di bosco e anche una nota funginia gentile ma anche io quasi quasi una nota di cacao viene fuori perché il nero uncinatum richiama a queste sensazioni ma nel frattempo io vorrei chiamare con me naturalmente il presidente di Slow Food Market Maidani vieni pure presidente con noi gli facciamo un applauso Vincenzo allora ciao ben trovato come vedi questo ambiente le marche si fanno notare Slow Food guida con grande classe tutte le degustazioni un tuo pensiero su questa giornata credo che sia un'occasione questa qui per appunto riuscire ad apprezzare fino in fondo dei prodotti che hanno una storia che si identificano con un territorio credo che sia importante ecco dare un'informazione anche sull'identificazione del territorio rispetto a questi prodotti con la pasta poi credo che sia uno dei modi migliori per mangiare il tartufo insieme forse all'uovo con la frittata e che riesci insomma a farlo apprezzare quindi ecco vi consiglio di assaporare questo prodotto perché è veramente un prodotto importantissimo dei nostri territori che può veicolare anche altri prodotti probabilmente meno conosciuti questo è più conosciuto degli altri rispetto siamo al Salone del Gusto di Torino e tra i nostri ospiti annoveriamo con grande piacere e amicizia Stefano Vaccari che è il direttore di CREA questo consiglio per la ricerca economica è un grande istituto e Stefano oggi ti trovi in mezzo a una degustazione di tartufo che cosa rappresenta secondo te il tartufo per l'italianità il tartufo è uno dei simboli della cucina italiana e del territorio italiano straordinario nelle sue diversificazioni straordinario perché in quasi tutte le regioni italiane ce n'è e di grande qualità straordinario perché è un simbolo della cucina di molti territori qui siamo nella regione Marche e l'amico Giuseppe Cristini è il maestro delle cerimonie della regione Marche ma del tartufo in generale posso dire che quest'anno sarà un anno non così malvagio per il tartufo anzi quindi incrociamo le dita l'andamento stagionale incredibile lo è stato con il vino la vendemmia di quest'anno è stata una delle vendemmie più strane degli ultimi trent'anni ma alla fine ce l'abbiamo fatta ed è un vino di grande qualità così penso sarà anche il tartufo molte regioni italiane hanno avuto una pioggia calata i primi giorni di settembre nonostante l'estate sia stata molto secca quindi insomma siamo fiduciosi che sarà un'annata straordinaria quindi potremo mettere sui nostri piatti la straordinaria ricchezza del tartufo italiano e poi Stefano l'Italia il tartufo ce l'ha tutto l'anno nelle varie tipologie ed è anche un grande calamitatore turistico anche enogastronomico io direi economico assolutamente vero non solo ma c'è ancora molto da fare per far crescere i nostri ristoratori e i nostri ospiti perché effettivamente noi da gennaio a dicembre abbiamo tartufi in tutta Italia nelle diverse tipologie nei diversi profumi nelle diverse ricette quindi credo che c'è veramente ancora tantissimo da sviluppare e anche tantissimo da comunicare nel mondo perché venire in Italia ad assaporare i nostri tartufi è un'esperienza e quindi ora un impegno che ci dovremmo porre è anche quello di farlo conoscere a tutto il mondo questo tartufo anche fuori stagione perché abbiamo gli estivi gli invernali e i primaverili è un impegno che ci possiamo ascrivere assolutamente comunicare ai cittadini del mondo la ricchezza del tartufo italiano è una cosa che faremo e faremo anche a breve il CREA che è il più grande degli enti di ricerca italiano di gran lunga è molto impegnato in questo credo che nelle prossime settimane qualcosa di buono faremo proprio come comunicazione al mondo della straordinaria varietà e ricchezza del tartufo italiano che cosa ci hanno portato in abbinamento uno fida pecorino siamo ad Ascoli Piceno ed è una naturalmente una D.O.C.G da questo punto di vista ed è uno di quei vini nuovi emergenti quei vini il pecorino e la passerina che si fanno conoscere un po' in giro per il mondo il vino mostra la sua la sua colorazione di un giallo paglierino quasi che guarda a loro sfumature auree al naso escono i classici profumi floreali un fiore bianco molto gentile ma anche una nota magari così tropicale ma senza legno in bocca fresco morbido ma anche con una spinta sapida il salone del gusto è stata anche l'occasione per presentare il nuovo numero della rivista ufficiale del tartufo italiano Accademia del tartufo nel mondo è un numero naturalmente che mette insieme le difficoltà del momento ma anche le soluzioni e soprattutto un messaggio forte salvare il tartufo per salvare il pianeta quindi massima attenzione anche a come curare i boschi curare i terreni ma parleremo anche di cucina e parleremo dei nuovi messaggi internazionali dove un osservatorio permanente del tartufo non è ormai più dilazionabile e anche il nuovo governo ne prende atto un'esercizio di un'esercizio Grazie.